Sono stati circa 200 salernitani che hanno risposto all'appello dell'AIL aderendo all'iniziativa promossa da Fit Walking Solidale, organizzata proprio dall'AIL in collaborazione con l'associazione presieduta da Mauro Russo, che si è svolta ieri in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Una passeggiata partita da Piazza Dante, dove volontari AIL hanno distribuito le sacche con i gadget e le magliette e si è svolta poi su tutto il lungomare con tappe nei punti bellissimi della città di Salerno, dalla spiaggia di Santa Teresa, la stazione marittima, Piazza della Libertà. Conclusione con un aperitivo tutti insieme. In tantissimi erano anche i pazienti che grazie alla ricerca hanno potuto affrontare la malattia e ieri erano a camminare finalmente fuori dall'ospedale con medici, infermieri, psicologi, volontari e tante tante persone che hanno voluto esprimere la propria solidarietà. È stata dunque un'emozione immensa incrociare sguardi, vedere finalmente i sorrisi senza la mascherina, camminare con entusiasmo e tutti insieme dare un contributo all'AIL nella lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma.